Il cagone. Un giorno mi prese in casa un tizio che sembrava molto vecchio ed era incredibilmente magro. Era un bianco, abbastanza simpatico. Devo dire che andavamo d'accordo, non so che cosa facesse però non lavorava che poche ore a settimana, non aveva la macchina e aveva pochissimi soldi. Un giorno mi disse che era gay e che aveva un fidanzato con una casa molto bella e perciò prendeva l'autobus e andava a trascorrere tutti i fine settimana da lui. Avevamo cominciato ad andare al supermercato insieme perché Robert era vivace e divertente e molto di compagnia. Un giorno gli chiesi come facesse ad avere i soldi per pagare l'affitto e il cibo visto che lavorava pochissimo. Allora mi disse che aveva l'AIDS e che prendeva un assegno mensile dal governo. Un giorno lo trovai in cucina molto triste e quando gli domandai che cosa succedeva mi disse che la relazione con il suo fidanzato era finita. Non lo vidi per un po' di giorni e poi lo ritrovai ancora in cucina circa una settimana dopo. Era molto eccitato perché diceva di aver incontrato un uomo che gli piaceva su Craiglist e stava aspettando un taxi per andare dalla sua nuova fiamma. Da quel momento in poi Robert cominciò letteralmente a dare i numeri. Si era nel periodo in cui in America legalizzarono il matrimonio per i gay e così gli chiesi se era contento per questa vittoria. Non me ne frega una sega disse tanto io non voglio sposarmi voglio solamente divertirmi mi rispose ammiccando. Ed era esattamente ciò che intendeva infatti cominciò a portarsi a casa quasi ogni fine settimana uomini che trovava su Craiglist o alla fermata dell'autobus. La cosa più bizzarra non era neanche il fatto che erano sempre persone diverse ma che di solito erano due tizi. Non andava neanche a letto con uno solo per volta se ne faceva due. Non so se usavano droga ma spero di no. Comunque spesso durante le loro festicciole si ubriacavano e cominciavano a urlare. Ad un certo punto ne ebbi abbastanza e gli chiesi di andarsene. Gli diedi 30 giorni di preavviso richiesti dal contratto. Quei 30 giorni furono tremendi. Infatti questo tizio era estremamente vendicativo. Un paio di anni prima ero stata punta da alcune vespe e dopo uno shock anafilattico avevo sviluppato un'allergia alle vespe. Adesso l'allergia se n'è andata comunque a quel tempo avevo molta paura delle vespe. Essendo allergica avrei avuto bisogno di immediata attenzione medica se venivo punta. Purtroppo ero stata così scema da dire a questo tizio della mia allergia. Non ho mai visto una vespa in casa mia. Da che vivevo lì? Bene, nei 30 giorni in cui Robert aveva ricevuto la richiesta di sloggiare mi ritrovai per ben tre volte una vespa in camera da letto. Terrorizzata cominciai a dormire in sala e anche lì dormivo pochissimo. Io ho un cane e due gatti e perciò ho una porticina nella porta della mia stanza dove il cane e i gatti possono andare e venire dalla mia stanza da letto. Questo Robert secondo me se ne andava fuori a caccia di vespe e poi me ne metteva una in camera attraverso la porticina per gli animali. infatti dopo che se ne è andato tutte le vespe sono sparite. Il giorno che se ne è andato in taxi ha preso due rotoli di carta scottex dalla cucina e ci ha intasato la tazza del cesso. Ma non è finita, ha anche cagato sul pavimento del bagno. Era incazzato nero perché mi sono rifiutata di ridargli il deposito. Il motivo per cui non gli ho ridato il deposito è che mi ha completamente rovinato il materasso del letto dove dormiva. Nella sua stanza c'era un bel letto di ferro battuto a baldacchino con un materasso o due piazze. In poche parole questo Zulu dormiva nel letto senza usare le lenzuola, direttamente sul materasso e probabilmente ci faceva anche le orge con i suoi amici. Su quel materasso ci trovai macchie di sperma, pezzi di carta, sporchi di cacca e cibo, preservativi usati e scatole di cracker aperti erano disseminati dappertutto dietro il letto. Purtroppo ho dovuto pulire quello schifo perché neanche pagando oro ho trovato qualcuno che puliva quella roba. Ho dovuto perfino dare 100 dollari al tutto fare per portare di fuori il materasso perché si rifiutò di toccarlo. Poi lo convinsi ad usare dei guanti. Prima di entrare nella stanza di Robert per pulirla mi sono messa delle coperture di plastica sulle scarpe, guanti di gomma fino ai gomiti, cuffia di plastica sui capelli, maschera sulla bocca come quella dei chirurghi e occhiali di plastica per proteggere gli occhi. Sembravo pronta per sbarcare sulla luna.